Fare degli errori è un classico. Lavorare la notte e nei weekend è un classico. Dracula, sono stacco. Oggi non funziona un ***. Un classico. Fanno tutto questo perché adorano le quattro ruote classiche. Inizia la serie che rimette a nuovo auto bellissime che hanno visto giorni migliori. House of Carsa, domani alle 22 su D-Max, canale 52. Grazie a tutti.